L'alta velocità ferroviaria potrebbe arrivare a breve nelle stazioni del Cilento, ad annunciarlo l'assessore al turismo della Regione Campania, Corrado Matera, che ha presentato a Salerno il bilancio di Cilento Blu, numeri più che positivi per il progetto regionale che ha riportato i collegamenti marittimi tra Napoli, Salerno, Cilento e Costa Damalfi sulla falsa riga del metro del mare, sospeso per alcuni anni. Non soltanto mare, comunque, ma anche bus per consentire ai viaggiatori dell'alta velocità di raggiungere le località a sud di Salerno. Dal 18 giugno al 12 settembre sono stati 4.054 i viaggiatori sui treni d'Italo con destinazione Cilento e Vallo di Diano, 3.702 invece quelli di Freccia Rossa. Dal 1 luglio al 4 settembre invece 52.743 viaggiatori hanno utilizzato le tre linee marittime con 162 strutture ricettive che hanno aderito al progetto, rimborsando il viaggio a chi è soggiornato almeno per 5 notti nel Cilento e Vallo di Diano. Dati importanti che hanno spinto Trenitalia e soprattutto Italo a pianificare un prolungamento effettivo dell'alta velocità nel Cilento al di là dei bus ma anche e soprattutto con i treni. Nelle prossime settimane saranno effettuati sopralluoghi tecnici sulla linea ferroviaria nelle stazioni del Cilento per verificarne la fattibilità. Si sta lavorando la prospettiva e l'alta velocità per cui questa è sicuramente un'operazione importante quella che abbiamo chiuso. Il Cilento Blu è stato un grande progetto. Si sono create le condizioni per lavorare seriamente in prospettiva per l'alta velocità. Immaginiamo per un attimo solo 65.000 presenze nel periodo estivo sulle strade del Cilento. Sarebbe stato probabilmente ancora oggi. Le file erano ancora oggi insomma lì. Per cui è sicuramente stato un progetto importante che ha anche alleggerito i tanti disagi di quel territorio. Purtroppo un territorio che da anni è isolato per il problema della Cilentana. Oggi grazie anche alla determinazione di De Luca si sta lavorando anche sul progetto di recupero e speriamo che per fine anno la strada sia consegnata alla cittadinanza. È un progetto importante perché attraverso il Cilento Blu abbiamo anche fatto sì che il Cilento Blu, un'area sicuramente splendida, potesse essere ben conosciuta a livello nazionale. È una rivoluzione che stiamo provando a fare. Questo è stato un progetto importante. Bisogna costruire una prospettiva partendo da un dato sicuramente significativo che il progetto è riuscito bene.